Il percorso di cittadinanza attiva del Consiglio regionale continua a fare da tre d'union fra il mondo della scuola e l'istituzione. Circa 40 allievi dell'istituto comprensivo ex Torraca di Matera hanno varcato l'ingresso del palazzo più rappresentativo delle istituzioni regionali per porre quesiti e soddisfare la propria curiosità sul funzionamento dell'ente regione. Un momento di dialogo diretto con i vertici istituzionali dopo un lavoro di approfondimento fatto in classe come spiega la docente Lidia Di Cuia. Noi già dall'inizio dell'anno scolastico abbiamo cominciato a lavorare sui concetti di cittadinanza in generale, abbiamo analizzato le nostre istituzioni inizialmente ad ampio raggio piano piano, siamo poi arrivati ad analizzare più nel dettaglio gli antilocali. I bambini sentono a volte le istituzioni molto lontane, lontane dal loro mondo soprattutto, quindi partecipando attivamente come succederà oggi, diciamo la giornata che ci è stata proposta oggi, è un'occasione per rendere reale quello che diciamo viene soltanto detto. Noi cerchiamo di indirizzarli ad un pensiero critico, di indirizzarli ad essere vicini quanto più possibile a quello che loro sentono come astratto, come lontano dai loro bisogni quotidiani.